Andate con questo in Parlamento? E certo, lo commentiamo con l'Auto Blu. Che cos'è lo tsunami in Parlamento? È un cambio di rossa, diciamo, la trasparenza. Ma cosa bisogna pulire della politica con questo sapone? Beh, nella politica innanzitutto va pulita la corruzione. Il tour elettorale si chiama tsunami, il re della piazza digitale batte le piazze reali. Ogni giorno due comizi approda vicino a Roma, a Fomezzi, a Beppe Grillo. Dal palco attacca sulla questione morale. Il Monte dei Paschi è il PD, dice il PDL, che ripulisce le liste e non è credibile. Perché il PD è esattamente come il PD meno L. E il PD è uguale. Hanno convissuto, hanno convissuto con questa ruberia per 20, 30 anni. Si sono scambiati l'acqua come mortali e coppi! La ricetta economica di Monti è fallimentare, continua Grillo. Lo ha attestato anche il Financial Times. Questa è la proposta del Movimento 5 Stelle, l'uscita dall'euro, con un referendum. Puoi fare un referendum nazionale, se stare o non stare nell'euro. Se no mi fai un piano B di come fermare il debito. Mi dici come fermiamo 100 miliardi di interessi all'anno e io ti appoglio. Questa proposta come sarà formalizzata? Con una legge in Parlamento, un referendum sull'euro? Devi cambiare gli accordi, devi inserire una legge dentro la Costituzione. La Costituzione non è perfetta. Calamandrei la chiamava l'imperfetta.